Aveva ceduto a prestanome ai rami della sua società e aveva costituito altre quattro aziende allo scopo di proseguire la sua attività nel settore della distribuzione di materiale pubblicitario allo scopo di eludere le richieste di pagamento di Equitalia. È stato condannato a cinque anni di reclusione per reati tributari. Un imprenditore disserrente è arrestato dalla Guardia di Finanza di Cagliari in esecuzione dell'ordine di carcerazione. È messo sulla base di una sentenza diventata esecutiva il 27 giugno scorso. Nei confronti dell'uomo sono state anche erogate le sanzioni accessorie dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Equitalia, in seguito all'esito dell'attività ispettiva fiscale, aveva emesso nei confronti del contribuente moroso cartelli esattoriali per l'importo di circa un milione di euro. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, l'imprenditore, con l'ausilio di familiari e soggetti disoccupati in situazioni di povertà, aveva eseguito cessioni di quote aziendali e costituito quattro società a responsabilità limitata con prestanome allo scopo di continuare l'attività pubblicitaria già consolidata negli anni precedenti mediante la propria ditta individuale. Le verifiche fiscali eseguite nei confronti delle SRL hanno permesso, secondo la Guardia di Finanza, di constatare l'occultamento di un'ulteriore base imponibile di 2 milioni e 800 mila euro. La sentenza della Corte d'Appello di Cagliari ha disposto anche la confisca di quanto a suo tempo sottoposto a sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di un milione di euro.